è una delle migliori serie tv uscite negli ultimi anni a me è piaciuta tantissimo e il riadattamento dal videogioco è riuscito alla grande ma la domanda fondamentale è dove hanno girato la serie tv halo scopriamolo insieme ambientato in un lontano futuro halo racconta la storia di una guerra tra il comando spaziale delle nazioni unite formato da esseri umani e la misteriosa razza aliena chiamata covenant la serie tv halo offre diversi panorami mozzafiato ripresi anche dal videogame la prima puntata della serie porta gli spettatori dall'avamposto nel deserto di matrical al vivace quartier generale di rich con una breve escursione sul pianeta natale dei covenant tutti questi luoghi tuttavia sono stati in gran parte creati con l'utilizzo della computer grafica ma alcuni dei luoghi meravigliosi che vediamo in halo esistono veramente e adesso scopriremo insieme dove si trovano halo è stato girato in gran parte nelle città di toronto in canada e budapest in ungheria ma in ogni caso però si è ricorsi sempre all'uso della computer grafica con l'intento di rendere queste due città il più futuristiche possibili ciò non toglie che entrambe le città hanno svolto un ruolo chiave per le riprese della serie tv di halo le riprese di halo sono iniziate a toronto in canada nell'autunno del 2019 toronto è una location molto usata per le riprese grazie alla sua particolare architettura e alle favorevoli agevolazioni fiscali anche altre serie di fantascienza sono state girate a toronto come star trek discovery la maggior parte delle scene di halo come le scene interne su reach oppure a bordo delle astronavi sono state girate nei teatri dell'area di toronto l'ambiente arido e i cieli rossi di madrigal sono molto diversi dallo scenario che offre l'ontario meridionale ma l'erba e gli alberi sottili che si vedono nella scena in cui van e le sue amiche scoprono la nave covenant assomigliano a quelli che si potrebbero trovare in un parco dell'ontario o in un'altra area verde della città è possibile che questa scena in particolare sia stata girata all'aperto e modificata in fase di montaggio con un filtro colorato per un aspetto più arancione l'ungheria è diventata negli anni una popolare location per le riprese dei film e delle serie tv di hollywood diversi altri film e serie tv sono state girate a budapest nello stesso periodo di halo gli ultimi quattro episodi della prima stagione della serie sono state girate al corda studio di budapest la maggior parte delle scene di halo girate in ungheria in particolar modo a budapest sono state girate in studio e non all'aperto sebbene sia stato girato in due continenti diversi la serie halo ha in gran parte creato il suo mondo fantascientifico usando la magia della computer grafica e degli effetti speciali si conclude qui questo video ragazzi iscrivetevi al canale per non perdervi altri contenuti come questo e tutti gli altri che pubblico sul canale lasciate un bel mi piace a questo video commentate questo video condividete questo video seguitemi anche su facebook instagram e tiktok trovate il link in the box e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video ciao belli